Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Angolazione è diversa, set è diverso, volontà di cambiare ogni tanto e di approcciare in posti differenti. Oggi per esempio sono in ufficio. Ora questo video vuole essere un po' una chiacchiera informale su un po' di tecnologia fotografica. Più nello specifico voglio parlare del mondo Canon R5 e sistema RF per il mondo video. Ora in molti sicuramente conoscono o hanno sentito parlare di Canon R5, al momento una delle flagship di casa Canon. Certo c'è anche l'R3 ma è un segmento un po' diverso. R5 nasce come corpo fotografico ma con delle caratteristiche per il videomaking molto ma molto interessanti. Una soltante è l'8k ru in camera. Ma c'è un ma. Questo corpo macchina nello specifico e anche la sorella minore R6 hanno un problema, soffrono di overheating, ossia del surriscaldamento del body. Ora è naturale quando si ragiona e si utilizzano dei sistemi con un enorme flusso dati andare a sovraccaricare, a surriscaldare tutti i sistemi informatici che troviamo all'interno del nostro corpo macchina. Questo è quello che succede con Canon EOS R5. Ma c'è un ma. che Canon R5, la R5 di Canon è una camera per poter fare fotografia e video davvero impressionante. Noi abbiamo, quando parlo di noi parlo di ufficio, quindi di società di produzione, abbiamo sempre utilizzato Canon in ufficio e avevamo dei corpi macchina come le 5D Mark IV e abbiamo corpi come C200 per la parte video. È arrivato il momento del cambio tecnologico. Prima o poi questo momento doveva arrivare, è arrivato anche secondo me un po' troppo in ritardo e abbiamo cominciato a valutare l'upgrade della parte fotografica e video run and go con delle R5. Abbiamo provato la R5 e ne abbiamo presa una nello specifico. Ora non l'ho qui con me perché la stanno utilizzando per lavorare, ma abbiamo utilizzato già su una produzione, una la R5 e siamo rimasti davvero a bocca aperta. Ora, qualitativamente io già avevo provato su questo canale la Canon R6 e ne avevo già parlato. Quindi conoscendo poi il mondo Canon, la pasta Canon, le immagini Canon, beh tutto sommato Canon è una grandissima camera, un'ottima pasta e dà dei grandi benefici. Ma il ma più grande, la questione dell'overheating, si è fatta sentire. Abbiamo provato a spingere la camera un po' in più, non registrando in 8K, ma registrando in 4K. O l'intra a 60 fotogrammi al secondo. Per chi non conoscesse la differenza tra o l'intra, i PB e i PB leggero, che sono i formati di codec che troviamo, in verità non tanto di codec, ma i tipi di compressione che troviamo all'interno di questi corpi macchina, vi basti pensare che si va dal più complicato al più leggero. O meglio, l'olintra è quello che riesce a immagazzinare più dati, d'accordo, come sistema di compressione. Quindi comprime meno le immagini, ma comunque le comprime. Poi abbiamo l'IPB, che è un altro sistema di compressione dove comprime meno, ha un bitrate più basso, ma comunque lavorabilissimo. E poi c'è l'IPB leggero, che è un sistema di compressione ancora più compresso. Ora, noi normalmente quando giriamo e abbiamo bisogno di più profondità colore, tendiamo a girare, per questo anche la scelta dell'R5, in 4, 2, 2, 10 bit. Questo perché quei due bit di differenza ci danno una possibilità enorme in fase di color correction. Ora, quando si attiva questa funzionalità, naturalmente cambiano i parametri, nello specifico quando si aggiunge il Canon Log, quindi la curva flat di Canon, si passa in registrazione in H.265 a 10 bit. Tutti i termini troppo tecnici, H.264 e H.265, sono due codec differenti. L'H.265 è molto più compresso, ma ci permette di ottenere con lo stesso peso di file una qualità maggiore rispetto all'H.264. Quindi quando si passa in Canon Log, si attiva il 10 bit e si registra in H.265. E il sistema di compressione, la quantità di compressione, viene decisa da quel parametro che va scelto in all intra, IPB e IPB leggero. Ora, andando in registrazione a 4K a 60 fotogrammi al secondo, in all intra, quindi la minor compressione che potevamo ottenere. Abbiamo ottenuto un overheating dopo circa 20 minuti. Era una clip lunga che dovevamo registrare, abbiamo provato a spingere, conoscevamo il limite, ma volevamo provare a spingere e ci siamo ritrovati davanti al problema dell'overheating. Il problema dell'overheating è che non abbiamo provato e testato in 8K. Ora sono giornate un po' complesse lavorativamente, quindi non ho avuto possibilità di poter spremere la camera più possibile per raggiungere subito i suoi limiti, per capirli subito. Ma conosciamo benissimo dalle miriade di recensioni online che questo sistema, purtroppo in 8K, registra sì, in RAW sì, ma dopo 4 minuti la macchina è praticamente una fiamma. O meglio, una fiamma non è una fiamma la macchina in sé, ma si surriscalda talmente tanto che la macchina va in protezione e si spegne. Noi qui in studio utilizziamo quindi, come detto, dei corpi macchina che sono fotografici dei corpi macchina dedicati al video, ma andando verso l'avanzamento tecnologico abbiamo deciso di dotarci di corpi macchina come l'R5 che siano un buon compromesso, un giusto ibrido, dove la parte fotografica è eccelsa e la parte video è discreta. Non posso andare oltre perché questi limiti purtroppo mi portano a dire che non è perfetta, ma possono essere superati. Ora, perché vi sto parlando di R5? Perché nel mercato odierno ci sono tantissime possibilità e c'è un'enorme guerra tra i vari brand e quando si fa una scelta o si prende una decisione di passare a un brand piuttosto che a un altro, quando si sceglie un corpo e un sistema piuttosto che un altro, vanno valutate tante cose. Oggi nel mondo del videomaking uno dei brand più forti naturalmente è Sony, perché grazie alla sua gamma della serie A7, fortunatissima serie A7 e potentissima serie con corpi come A7S3 e FX3, ci troviamo davanti a davvero una beast da dover combattere. Ma attenzione, con quel prezzo noi andiamo ad acquistare a quel costo, parliamo budget molto simile a quello del R5, forse R5 costerà qualcosina in più, andiamo ad acquistare un corpo macchina che ha molte più funzionalità video rispetto alle funzionalità fotografiche. Questo perché per ottenere quei risultati Sony, come sempre detto, ha bisogno di un sensore grande con meno densità di pixel. E non tutti i fotografi oggi possono lavorare con 12 megapixel. Certo, c'è chi riesce a lavorare, chi lavora con i social media può tranquillamente lavorare con 12 megapixel, ma per chi per esempio fa campagne, fa stampa, fa cartellonistica o altro, beh, 12 megapixel sono abbastanza stretti e quindi bisogna andare a convergere su altre macchine della serie A7, come la 7.4 o la 7R4, che sono corpi che hanno delle fantastiche prestazioni nella gestione degli ISO, hanno più megapixel e molti più sulla 7R4. Infatti il 7R4 ha una densità molto elevata, molto simile al R5, perché il R5 è un sensore con molti pixel. Andando in quella direzione naturalmente viene a mancare molto quello che è il discorso della gestione dei bassi ISO, degli altissimi ISO. Gestione degli altissimi ISO che, come detto, un professionista non dovrebbe mai arrivare oltre a una certa soglia. Ed oggi diciamo che il 95% dei corpi macchina che troviamo sul mercato, la soglia dei 6400 ISO la gestiscono piuttosto bene tutte quante. Anzi, forse qualcosa anche in più dei 6400 ISO riescono a gestire tutte quante. Poi c'è, come detto, il caso Sony A7S III e la serie A7S che gestisce ISO molto, ma molto più elevati. Ma andiamo in particolari, specifiche e necessarie tipologie di lavoro e di progetti che hanno necessità di avere questa gestione molto elevata di ISO. Quindi, fatta questa dovuta premessa, quando ci si affida a un brand, si si affida a tutto il sistema. In questo caso nello specifico sto parlando di Canon, parliamo di Canon R5, R6, ma anche la stessa C70 che è una telecamera e al mondo RF. Quindi a questa nuova baionetta uscita due o tre anni fa, con questo nuovo tacco uscito due o tre anni fa, con la capostipite che è stata la Canon EOS R, perdonatevi, tutte queste ES mi si impastriccia la bocca, che ha cominciato la rivoluzione di casa Canon, dove ha portato tutta una serie di funzionalità aggiuntive, un aggancio più largo rispetto al mondo EF, insomma, tutta una serie di cose ha portato alla possibilità di poter costruire lenti con la stessa qualità, con qualcosa in più, come per esempio lo stabilizzatore, in lenti dove prima non c'era, è tutto più compatto. Ed è questo quello che mi fa dire porca miseria, Canon ha fatto un ottimo lavoro. Fino ad oggi dove avevo provato i corpi macchina, ma le avevo provate in realtà con le ottiche più costose di casa Canon, ho avuto la possibilità di poter provare la R5, insieme ai due, al tuttofare, fantastico di Canon, il 24-70 F2.8 RF che abbiamo preso, ed abbiamo preso anche il 15-35 F2.8 che adesso diventa IS, quindi stabilizzato. E questi due fattori mi hanno fatto dire, porca miseria, il sistema RF non ha assolutamente nulla da invidiare, già lo sapevamo, attenzione, a tutti gli altri sistemi che attualmente sono in commercio. Adesso il più grande paragone lo si fa con Sony, perché Sony ha la line-up più conosciuta ed ha una line-up di lenti molto ben fornita, non solo proprietari, ma anche di terze parti. Cosa che per esempio Canon ha qualche piccolo problemuccio nella gestione di ottica di terze parti. Prima c'era Samyang, che produceva dei fissi molto interessanti a un costo più ridotto, ma a un certo punto, non conosco il motivo, ha smesso la produzione di ottiche RF. Canon con il mondo RF non ha pensato solo ai grandi professionisti, che quindi possono permettersi un investimento su lenti molto costose e complesse, ma quello che mi ha fatto rimanere a bocca aperta è la qualità delle lenti dedicate più agli amatori, o meglio a chi vuole spendere un po' meno. Ricordiamoci sempre che il mondo ad oggi si basa, su corpi macchina mirrorless, quindi corpi macchina che non hanno specchio. Questo significa che i corpi sono diventati più piccoli. In realtà all'inizio sono diventati più piccoli, poi adesso sono diventati di nuovo enormi e pesanti. Quindi avere un corpo piccolo e lenti piccole diventa un plus enorme rispetto al mondo delle reflex di una volta. E se da un lato abbiamo le lenti per professionisti, quelle più costose, che hanno necessità di avere un esborso economico di budget, come il 24-70, il 15-35, il 70-200, il f2.8, tutti quanti, abbiamo tutto il mondo delle lenti prime, f1.8 e f2.8, in casa RF e Canon, che sono davvero simpatiche. Io ora ho provato soltanto il 50, non ricordo. Comunque abbiamo una line-up di 16-35, 50-85, tutti quanti con prezzi che vanno dai 50, sono sbaglio, 280 euro, il 16-350, il 35-500 e l'85 costa circa 700 euro. Questa line-up di lenti economiche, tra virgolette, per un sistema fotografico professionale, queste cifre non sono alte, beh, rendono ancora di più questo sistema interessante. Io che vengo come macchina personale da un altro mondo, un altro brand, sono rimasto molto colpito andando a provare questi prodotti. Ci sono rimasto colpito tantissimo per l'estrema qualità, tant'è che ora sto facendo dei test, sto provando queste lenti. In realtà in questo momento sto provando un corpo macchina con il quale vorrei fare lo switch con il mio sistema semplicemente per adeguarmi allo studio, perché in studio abbiamo molte più lenti EF ed RF e questo mi porta a un giovamento, perché posso prendere le lenti che mi servono senza doverle comprare, sostanzialmente. Mentre con il sistema che utilizzo attualmente, che è il mondo Lumix con un attacco L, mi è tutto un pochino più complicato, perché dovrei comprare adattatori, ma l'autofocus continuo non va e quindi dovrei lavorare in manuale, bla 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 bla. Abbiamo quindi preso una Canon R5, ma abbiamo necessità di avere più corpi camera, perché facciamo produzioni con più corpi camera. E stavamo valutando di prendere la seconda R5. Nel mercato attuale è stata presentata da Canon la Canon EOS R5C, quindi dedicata al mondo video, dove i problemi di overheating, quindi i problemi che abbiamo riscontrato noi, vengono totalmente superati. Perché? Perché si è ad aggiunto un ventolone, un dissipatore sul retro della camera che la rende un pochino più tozza e più grande, ma va praticamente a risolvere il problema dell'overheating, perché va a raffreddare il corpo macchina quando è vicino al punto di surriscaldamento. Ma c'è un ma. Se abbiamo tutta una serie di funzioni dedicate al mondo video nella R5C, viene a mancare una cosa che secondo me sul mercato odierno è fondamentale, che è quella dello stabilizzatore. Infatti, per far posto a questo sistema di dissipazione del calore, è stato aggiunto, è stato eliminato il sistema di stabilizzazione in macchina, quindi l'Ibis. Per me questo non è un punto che gioca a favore della camera, o meglio, tutti i corpi dedicati al video, le cineprese, tutte quante non hanno l'Ibis, tranne forse la C500 Mark II. Ma tutto il resto, parliamo anche delle più grandi, non solo sognano proprio il sistema di stabilizzazione. Ma non solo per una questione di linguaggio, che è quello dedicato al mondo del cinema, perché si utilizzano altri sistemi per la realizzazione poi di movimenti fluidi, ma quando parliamo di un corpo piccolo e leggero, che viene utilizzato sicuramente molto di più in produzioni run and go, mi viene da pensare il mondo wedding, il mondo degli eventi e, perché no, le produzioni televisive, beh, il sistema di stabilizzazione in camera, io lo reputo non fondamentale, ma quasi necessario, perché prendi la camera senza la necessità di dover mettere un gimbal e poi cominciare a girare ed ottenere comunque un risultato soddisfacente a mano libera. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto dubitare nella scelta dell'R5C. In realtà, però, prima di prendere la seconda R5, noi proveremo la R5C, già mi sono messo d'accordo con il mio negozio di fiducia, che è Fotoema, che appena avranno il primo modello, faremo qualche test e qualche prova per decidere se prendere quella o la R5. In realtà, però, abbiamo immaginato una soluzione per risolvere il problema a monte dell'overheating. Noi molto spesso montiamo sulle nostre camere dei monitor o dei registratori esterni. E abbiamo da poco acquistato due Ninja 5 Plus, che ci permettono la registrazione fino a 4K a 120fps e in 8K fino a 30fps. E questo potrebbe essere la soluzione, perché li abbiamo acquistati purtroppo, per necessità di set di produzione, non abbiamo mai avuto contemporaneamente qui da un mese l'R5 e i Ninja, quindi non ho mai potuto metterli insieme e provarli. E capire se può essere la soluzione dove, se abbiamo la necessità di registrare clip lunghe, anche in un formato meno compresso, perché poi il Ninja ci dà la possibilità di poter registrare in ProRes 4.2.2, 10bit, ProRes RAW, quindi abbiamo tante possibilità, senza andare in overheating, sostanzialmente. E se abbiamo questa possibilità di utilizzare questo sistema, probabilmente, al di là del timecode che mi dispiace della R5C, prenderemo un'altra R5, proprio perché abbiamo, risolviamo il problema aggiungendo un accessorio, almeno il problema del sottoriscaldamento. Poi ci sono tanti piccoli problemini dedicati al mondo video che vengono risolti dall'R5C, perché è una macchina dedicata al mondo video, mentre sull'R5 no. Ma diciamo che finché non provo non voglio sbilanciarmi più di tanto. Voi mi direte, ma se dovete acquistare un'altra corpo macchina, perché un R6? Beh, la R6 la sto provando in questo momento, la sto riprovando dopo un po' di tempo, con una cognizione diversa, con un conoscere il mondo RF in modo differente e avendo anche provato altri sistemi nel frattempo. Per esempio il sistema Lumix che ho provato nel frattempo mi ha lasciato a bocca aperta, se non fosse per un piccolo problema, che è quello dell'autofocus. Ma non è questo il video in cui voglio parlarvene. Io sto provando in questo istante la R6 con obiettivi non propriamente RF, sto utilizzando in questo momento un 12-35 della Sigma F1.8 APS-C su adattatore, su R6, provandola in condizioni video, quindi sto provando la peggiore delle combinazioni e tutto questo io ogni tanto guardo il monitor, vedo che sfasa un po' il fuoco, ma questo è l'obiettivo, che sfasa un po' il fuoco. Infatti sto provando il sistema peggiore che potessi trovarmi davanti, perché purtroppo questo obiettivo è messo a fuoco, avendo degli elementi molto vicini tra di loro, fa un po' di rumore e si percepisce che ogni tanto perde e rimette a fuoco. Come detto all'inizio, nella prima parte del video, uno dei motivi che mi sta spingendo davvero ad amare il mondo dell'RF sono le lenti e al di là del 24-70, del 15-35 sono queste prime che sono davvero molto interessanti. Ed il fatto che costrutture di terze parti come Viltrox hanno cominciato a lanciarsi in questo attacco RF con il loro 85 che ha un costo fenomenale di 300€ e appena ho la possibilità voglio provarlo, diventa tutto molto interessante, perché anche Viltrox ha cominciato a fare un'ottima line-up per Fuji, un po' più pesante, un po' più solide, un po' più di ferro, di metallo, però sono davvero molto interessanti. Secondo me può essere un'alternativa economica se uno vuole farsi un kit di lenti. Per ora è disponibile l'85mm, spero che ne escano altre, ma quella è una lente che voglio provare, anche perché costa meno della metà dell'85 RF di Canon. Qualità, autofocus, ho visto qualche recensione, qualche test online, ma finché non lo provo. Non posso esserne sicuro, ma siete sicuri che è una lente che proverò. Insomma, questo è stato un chiacchierare sul mondo RF ed R5 per il video. Lo consiglierei, beh noi ci siamo buttati e malaccio non ci siamo trovati. Abbiamo fatto già delle produzioni stressanti dove le camere sono rimaste accese per tre giorni. Abbiamo registrato in un intra, 4K, 10 bit, ma 4K a 25 fotogrammi al secondo. E lì i corpi macchina non hanno mai dato problemi. Abbiamo utilizzato anche un R6, non l'ho utilizzata io, quindi io i test quando parlo è perché i test li ho fatti io personalmente. Abbiamo utilizzato R5, R6 e assolutamente non hanno avuto difficoltà di alcuna sorta con questo tipo di codec. In realtà il R6 non registra in un intra, ma arriva fino all'IPB. Quindi sempre in 4K a 25 a 10 bit. Ma non hanno avuto problemi di overheating. Non abbiamo spinto la R6 per esempio verso i suoi limiti, che anche se sono un pochino più lontani, avendo un sistema di compressione un pochino più tranquillo e meno traumatico rispetto a quello dell'R5. Quindi sono fiducioso. Perché l'R6 no? Al momento sicuramente una seconda R5 e perché no una terza camera può tranquillamente essere un R6. Lo spunto e il titolo di questo video doveva essere una provocazione, beh adesso vi dico la mia. Noi le stiamo provando queste camere e vi devo dire che realmente hanno una pasta incredibile. Anche perché su una produzione abbiamo abbinato un R5, un R6 e un A7. Non ricordo adesso se era un A3, un A7 S2 non ricordo precisamente. E porca miseria la differenza si vede. La differenza di pasta e di colori di Canon è superiore. Certo non abbiamo utilizzato una A7 S3 che ha l'S Cineton, quindi una gestione di colori un po' diversa, una ColorSense nuova. Io l'ho provata però su altri lavori e comunque a memoria e a vista, beh non sono la stessa cosa. Canon nella pasta rimane comunque Canon. Insomma per concludere il video. Sistema RF, Canon R5 e anche R6 per il video vanno bene. Sicuramente R6 per i professionisti e tutto il reparto degli amatori è una camera fenomenale. R5 ha un costo un po' più impegnativo ed ha dei limiti più impegnativi ma comunque nell'utilizzo quotidiano che ne abbiamo fatto noi. Utilizzo reale dove in realtà è un po' difficile che noi registriamo con una macchina così piccola un 8K RAW in camera. Anche perché al di là dell'overheating penso che la scheda si esaurisca prima che la macchina vada in overheating. E le schede purtroppo costano tantissimo. Quindi la realtà dei fatti è che si ha dei limiti ma questi limiti un professionista tende a non raggiungerli. Anche perché sono delle prestazioni overkill rispetto al mercato e all'utilizzo che se ne fa quotidianamente per lavorare. Se poi hai necessità di utilizzare, di girare in 8K probabilmente non punterai su un R5 ma si punterà su una Red Helium, una Red Monstro che sono macchine con altre competenze che gestiscono un file 8K in modo totalmente differente. Le ho usate, le abbiamo usate su dei film e sono un altro mondo. Quindi bisogna registrare in 8K probabilmente per un film. non si sceglierà un R5 ma si sceglierà una macchina di quel tipo lì. Mentre per esperimento personale se vuole utilizzare l'8K, brevi clip si possono fare. Dopo 4-5 minuti però la macchina si surriscalda quindi va fatta raffreddare. Insomma io sono giunto alla fine di questo video. Ditemi cosa ne pensate scrivendomelo qui sotto nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se lo ancora non l'avete fatto. Seguitemi anche su Instagram perché lì provo a condividere altre esperienze nelle stories nei post e cos'altro dirvi. Io sono giunto alla fine di questo video, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Grazie. Grazie.